Ciao a tutti, benvenuti su Magist of Lotus. In questa nuova puntata di Keep or Sell parliamo di altre 3-4 carte, prodotti o qualsiasi cosa che riguarda Magic e che ci avete chiesto di valutare. Vi ricordiamo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va e di attivare la campanella. Allora, per partecipare a questa rubrica, commentate sotto un nostro qualsiasi video su YouTube con Keep or Sell e il nome del prodotto o della carta che volete farci valutare. Allora, oggi partiamo con Oko is not poco forte che è un nostro graditissimo follower, che ci chiede sempre un po' di carte abbastanza interessanti e questa volta Fable Passage in giapponese. Allora, la carta si gioca principalmente in Pioneer, si può giocare, ed è l'unica fetch legale decente perché le altre sono quelle comuni che prendono la terra, la mettono tappata, bla bla bla. Almeno questa, se ne controlliamo 4 o più, è intrastappata. Allora, la versione in giapponese non è a prezzi altissimi, anzi, come potete vedere si trova anche foil, giappo a prezzi bassissimi. Il problema è che una possibile salita di questa carta non è facilissima da prevedere, nel senso che comunque l'hanno stampata veramente tantissime volte, come potete vedere. Eccolo qua. A mille, mille versioni, soprattutto a questa versione qua. Ho il layout che è molto, 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 molto bella. Molto, 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 molto. Quindi, detto tutto questo, secondo me, adesso mi prendo le carte, le nostre due carte bellissime. Prima o poi questa qua la foilo, così. Per me è un sell, quindi si può tranquillamente vendere. Non credo che salga nel breve, quindi ci può stare. Allora, poi c'è Fury Chicken, che ci ha chiesto tre carte, sempre in giapponese, oggi puntata giapponesante. Giapponesante. Allora, Scalding Tarn, versione 2, giapponese. Allora, questi sono i prezzi, 65, 71, 75, 79, eccetera. Allora, questa è una versione premium di Model Horizon 2, che si trovava, la potete trovare solo nei collector, collector, forse nei set booster, ma non credo, mi sembra solo nei collector. Ed è oggettivamente carina, perché è Old Ray Out, Eched, questa è anche in giapponese, quindi ha qualcosa in più. Allora, la Scalding Tarn ad oggi è minimi storici. Più basta di così è praticamente impossibile trovarla nella storia di Magic. Quindi, detto tutto questo, la mia opinione è di non venderla adesso. Perché, con la salita della versione normale, salirà anche questa. Tra l'altro, ho parlato ieri con il mio amico Federico del negozio, e mi ha detto che a loro, ad oggi, prima risultava un'altra ondata di box, ad oggi non risulta più. Quindi, bisogna capire questa cosa qua, c'è un mistero, se ci sarà un'altra stampa, un'altra ondata di box dei fornitori, di MH2, oppure no. Quindi, vedremo. Vedremo. Altra carta che ci chiede sempre il nostro amico è il panorama prismatico, versione 1, giapponese. Allora, come potete vedere, c'è un utente francese che lo vende a 54, che mi sembra un ottimo prezzo, oggettivamente. 54€ per questa versione giapponese è veramente buono. Ma veramente, veramente buono. Questa non è old layout, cioè non è, scusate, acid, ma è normale. Questa è la versione acid, ma lui ci ha detto la versione, credo che si riferisse a questa qua. Allora, 54€ è un prezzaccio, secondo me, è un ottimo prezzo. Cioè, per chi vuole questa carta in giapponese, oggettivamente è basso. Infatti, la seconda poi è 89, quindi se volete acquistarla, fatelo, perché è un ottimo prezzo, se volete pimpare la vostra prismatic vista. Ovviamente, se uno la deve vendere a 54, è un keep sicuro, cioè, tienila perché non ha senso vendere a 54. Se riesci a venderla dai 80 in su, come appunto l'altro utente che l'ha messa, ci può stare. Ovviamente, i big seller l'hanno messa magari a 130, 140, ma sono prezzi un po' infattibili per un prismatic vista in questo momento. Come potete vedere, la concorrenza c'è e prima di poterla vendere dai 100 in su, ci vorrà un po' di tempo, assolutamente. Quindi, per me, è un sell, ma dai 80-85 in su. Di meno, tienila assolutamente. Ultima carta, è la Dambri. Ci ha detto sia Ita che giapponese, in realtà il prezzo dovrebbe essere abbastanza simile. Facciamo, ecco qua, filtriamo anche italiano. Niente, l'italiano è più rara che in giapponese. Allora, carta di reserve list. È stato bellissimo il disegno, secondo me, veramente stupendo. Ha avuto un'ascesa, negli ultimi due anni ha avuto un'ascesa importante per poi riscendere. Quindi, in questo momento è nel momento di discesa, ma potrebbe iniziare piano piano a risalire. Quindi, il mio consiglio è, per adesso tienila. Come tutte le reserve, come vi ho già spiegato anche in altri video, vivono un momento di sofferenza, è normale. Quando l'economia va male, il collezionismo puro ne risente, perché le persone che giocano e collezionano tendono di più a spendere soldi per le carte con cui giocano. Non per quelle con cui collezionano. Quindi, detto tutto questo, per me è un kit. Tienila. E poi, quella giapponese, magari a 45-50, si potrebbe anche vendere. Però, di meno no. Quella in italiano, se si riesce a vendere a 45, si può già vendere, secondo me. Perché comunque la richiesta non è altissima. Magari ci sono anche meno copie, però 45-50 per quella in italiano va benissimo. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Keep or Sell. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate se vi va. Ciao ragazzi!